Amici, come sapete il super tifone Ayan, uno dei più devastanti ma registrato, si è abbattuto nelle Filippine centrali lo scorso 8 novembre, colpendo circa 4 milioni di bambini, con una stima di oltre 10 milioni nei prossimi giorni. Unicef sta predisponendo aiuti per rispondere rapidamente alle necessità dei bambini nei settori della sanità, della nutrizione, dell'acqua, dai servizi igienico-sanitari fino alla protezione dell'infanzia. Data la drammaticità della situazione, è stata aperta una campagna di raccolta fondi. Dall'11 al 26 novembre, infatti, con un SMS al costo di 1 euro o con una chiamata fissa al costo di 2 euro, al numero 45 590, è possibile sostenere gli aiuti che Unicef e il programma alimentare mondiale stanno fornendo alle popolazioni delle Filippine. È questa la nuova medaglia da vincere.